Castellabate torna sotto i riflettori. Linea blu, la storica trasmissione dedicata al mare, targata Rai 1, dedicherà una puntata all'area marina protetta di Santa Maria. In questi giorni la troupe sta prendendo nota degli scorci più suggestivi scelti per le riprese, che verranno effettuati con Donatella Bianchi la prossima settimana, nei giorni del 26, 27 e 28 ottobre, quasi completamente nel territorio comunale di Castellabate. La puntata sarà poi trasmessa in tv sabato 11 novembre alle ore 14. Linea blu è un programma televisivo di divulgazione culturale impegnato nella diffusione e nella sensibilizzazione della cultura dell'ambiente e del mare, trasmesso su Rai 1 dal 1994, attualmente condotto da Donatella Bianchi con la partecipazione di Fabio Gallo. Ciò dimostra ancora una volta come il piccolo borgo di Benvenuti al Sud si riconfermi come uno dei borghi più belli d'Italia per le sue bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.